Ciao a tutti e benvenuti su Azalea Channel. Oggi siamo tornati con un nuovo episodio di The Sims 3. Allora, tutto per cominciare, ci tengo a scusarmi perché l'episodio che doveva uscire domenica scorsa non è potuto uscire perché io l'ho inavvertitamente cancellato dopo averlo registrato e purtroppo non sono riuscita a recuperarlo. Quindi mi dispiace molto per questo disguido però vi dico che non ci sono state grandi novità perché essenzialmente era un episodio per passare il tempo nell'attesa che Catrina partorisse. Come potete vedere lei è ancora incinta penso che manchi almeno un giorno per cui per fortuna non vi siete persi novità importanti. Io praticamente avevo fatto un po' le solite cosine che facciamo sempre a casa avevo portato tutta la famiglia qua al festival invernale approfittando dei giochi con la neve, lo snowboard, il pattinaggio, eccetera. E adesso stavano per tornare a casa però visto che è andata così, quindi l'episodio scorso ve lo siete perso per colpa mia quindi mi scusa ancora per questo. Facciamo che restiamo un altro pochino al festival a fare qualche altra attività divertente e poi torniamo a casa e aspettiamo che finalmente nasca il quarto membro della nostra famiglia che speriamo sia una femminuccia intanto a Catrina infatti continuo a far mangiare qui le angurie se ce l'ha ancora, sì dai Catrina tu mangia anche perché lei essendo incinta purtroppo non può fare queste cosine giustamente. Allora, intanto che Catrina quindi si mangia qui l'anguria, facciamo una lotta perché non possiamo fare la palla di neve? Ah la neve non è ancora abbastanza alta, mannaggia e allora dai, Sebastian e Daniel venite qua a fare un po' di snowboard dai e Catrina, niente, sta praticamente qua a guardare te la sei mangiata l'anguria? Vediamo un attimo sì, uh poverina deve andare in bagno però assolutamente eccoli qua i bagni vieni qua, corri corri prima che te la fai sotto e intanto vediamo qua i nostri uomini di casa come se la cavano sullo snowboard non so se però ci possono andare in due mi sa che si può andare uno per volta adesso vediamo un attimo tanto Catrina vai al bagno se si vai tranquilla che evitiamo così di farcela addosso eh guardate come cammina tutta con la schiena tirata poverina eh perché qua non mi dice ancora quanto manca alla fine del trimestre come in The Sims 4 quindi dovrebbe mancare però appunto un giorno circa Sebastian è salito, sì eccolo qua e oddio, dov'è andato? è caduto proprio così benissimo, non ha fatto una gran figura vediamo un attimo come fa Daniel se va meglio ah tra l'altro a Daniel ho fatto dipingere anche il viso adesso vediamo se riesco a mostrarvelo e vabbè quando scende ve lo faccio vedere ah intanto Sebastian si era appunto anche a riposo dal lavoro vai Daniel facci vedere come vai sullo snowboard ah però ha del potenziale il ragazzo eh se la cava piuttosto bene bravo Daniel bravo bravo peccato che non c'era Catrina a vederti aspetta vai però al bagno pure tu intanto e poi magari ci prendiamo qualcosa da mangiare oh qua c'è una bimba che sta pattinando che carina anche Sebastian qua hanno tutti fame e devono andare al bagno quindi vai andate Catrina ha mangiato però ancora ancora uh 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 fermi, fermi, fermi tutti quanti il parto è imminente assicurati che Catrina si trovi in caso all'ospedale per fare in modo che tutto proceda bene no ragazzi pensavo che ancora mancasse un giorno perché la pancia non era così evidente e invece eccoci qua ok prepariamoci facciamo una foto a Catrina anche se non è della sua espressione migliore ma va bene e direi però che andiamo all'ospedale assolutamente allora dov'è l'ospedale? eccolo qua vai Catrina partorisci all'ospedale no dai Sebastian ci vai dopo al bagno invece Daniel vabbè vai al bagno e poi lo ritroviamo a casa ok ragazzi ci siamo speriamo che tutte quelle angunie abbiano dato il risultato sperato Catrina sta andando in un luogo che il gruppo non può raggiungere quindi andrà via a sciogliere il gruppo eh sì per forza mica possiamo partorire qua nel bagno del parco non mi sembra esattamente il caso quindi andiamo ma Sebastian non la sta seguendo no Sebastian vai con lei che mandi Catrina da sola assolutamente no vieni qua e niente vabbè per il momento gli dico di raggiungere almeno la strada vicino all'ospedale vai Catrina spero che tu stia andando in macchina e in bicicletta cioè io non ho parole ragazzi veramente Catrina con tutte le doni in bicicletta ma come fa comunque è una superwoman Catrina bisogna dirlo ecco è stata pure investita perfetto benissimo ci siamo quanto manca all'ospedale anche in salita se la sta facendo e Sebastian in tutto questo che stai facendo ancora non è arrivato mannaggia dai ci siamo Catrina ah eccolo Sebastian anche in vestito Catrina benissimo eccoci oh dai Sebastian assisti tua moglie lo so che devi andare in bagno però niente trattieniteli ah vedete non mi fa entrare con lei però mannaggia aspettiamo un attimo che entra ecco ecco bravo Sebastian stai con la madre che mi sembra giusto ok ragazzi ci siamo tra poco sapremo se sarà un maschietto o una femminuccia ragazzi ce l'abbiamo fatta è una femminuccia congratulazioni per la tua femminuccia la gravidanza è filata liscia sia per Catrina che per la sua prole la neonata ha il tratto goffa e ne potrai scegliere un altro vabbè dai goffa è carino come tratto non è proprio positivo però è simpatico sì dai che nome vuoi darle? allora per quanto riguarda i nomi vi avevo chiesto negli episodi scorsi di suggerirmene qualcuno sia nel caso il figlio fosse stato maschio che se fosse stata una femminuccia appunto per le femmine mi avete dato veramente tanti bei consigli tanti bei nomi infatti sono stata un po' indecisa su quale scegliere però alla fine ho scelto questo e vi spiego poi anche il perché eccolo qui Chloe allora ho scelto questo nome sia perché me l'avete suggerito in due in due persone e quindi in un certo senso l'ho visto come nome che è stato più votato tra tutti ecco inoltre questo nome piace molto anche a me perché Chloe è anche la protagonista di un gioco che io adoro ovvero Life is Strange per cui ho scelto appunto Chloe come nome d'accordo adesso ci scegliamo anche il tratto vediamo un po' che cosa possiamo mettere per lei intanto vediamo qui che cosa dice per Goffa i Sim Goffi sono capaci di rovinare ogni situazione lasciando impronte fangose in giro e pianificando senza criterio i Sim Goffi non dovrebbero puntare alla laurea in educazione fisica all'università dei Sim quindi Chloe sarà un po' così un po' Goffa un po' anche distratta però la vedo in senso così positivo che fa tenerezza ecco quindi come altro tratto vorrei scegliere per lei qualcosa che ci stia bene diciamo insieme a Goffa e secondo me ci sta bene questo qua emotiva i Sim emotivi si lasciano entusiasmare praticamente da tutto inoltre ricavano una soddisfazione ancora maggiore quando gli succede qualcosa di positivo secondo me sono due tratti che stanno bene insieme perché li vedo in un certo senso correlati tra loro perché essendo lei molto emotiva molto che si lascia prendere dalle emozioni e tutto ci sta che magari sia Goffa non so magari mentre sta portando qualcosa in mano si entusiasma per qualcosa legate dalle mani no? mi immagino una cosa del genere quindi per ora i tratti di Chloe saranno Goffa ed emotiva poi ne sceglieremo ovviamente altri quando crescerà quindi accettiamo e adesso ce ne torniamo a casa con la nostra piccolina eccola qui ma intanto Daniel che fine ha fatto mi sa che è rimasta al festival quindi facciamolo tornare a casa eccola Chloe no non vedo l'ora dai andiamo a casa tutti quanti e così la mettiamo subito nella colletta eccola Chloe che carina anche lei mi sembra abbastanza scura di carnagione non so se verrà come Daniel che è una via di mezzo proprio tra Sebastiana e Catrina oppure verrà un pochino magari più chiara però mi sembra abbastanza scura ah beh finalmente tornano a casa in taxi meno male guardate che carina che ce l'ha seduta qua in braccio vi torniamo subito a casa e mostriamo la nuova sorellina Daniel io spero che sia contento lui ma secondo me si uh però poverino ha fame ed è stanco quindi intanto che aspettiamo che tornano loro a casa Daniel mangia di qualcosina da mangiare dove sei? ah ecco di qua era nascosto dietro la libreria eh sì lo so che hai fame ma adesso ci andiamo subito a mangiare qualcosa tranquillo mangia di una fetta di torta va sì sì vediamo un attimo i nostri animali come stanno uh poverino ha bisogno ah no di esercizio fisico no sta bene ok twink anche dove sta ah eccolo qua oddio twink ma che gli è successo è caduto dalla poltroncina poverino e vabbè linus ha bisogno di un po' di distruzione adesso ci andiamo subito tranquillo ah no sta bene anche lui perfetto arrivano un po' in ritardo i bisogni qua degli animali e e Ares pure sta a posto sta seguendo il suo padroncino perfetto e mi sa che però dovremmo comprare una culletta per Chloe eh sì sì tanto ragazzi adesso la metto momentaneamente qui e poi vi spiego una cosa che ho in mente di fare si intanto qua dovrebbero un attimo sistemarsi tutti e Catrina ma dove l'hai messa Chloe per terra vabbè adesso prendo subito la culla oh eccola qua finalmente la culletta e Chloe sta dentro il lettino allora l'ho messa qua in camera di Daniel momentaneamente perché poi ho appunto un'idea in mente che vi svelerò tra breve per cui è una soluzione questa solo temporanea intanto Catrina si stiamo un attimo dal biberon poi cambia anche il pannolino stringi e fai tutte le cose che servono Daniel ha finito di mangiare quindi vieni qua per favore che volevo presentarti la tua sorellina appunto oh intanto guardate qua che carina non vedo l'ora di vedere come crescerà oh guardate Catrina quanto è contenta eccola qua la nostra Chloe sta arrivando anche Daniel vedo se può fare qualcosa con lei magari metti giù Chloe qui lo so che Daniel è anche stanco però no per terra Catrina nel box ma ti pare che la lasci così per terra come un bambolotto dai si ragazzi poi finalmente adesso che Catrina ha partorito posso cambiarle gli abiti perché questi sono una cosa inguardabile c'è un abbinamento assurdo imposto dal gioco ma finalmente possiamo metterle qualcosa di decente dai Catrina mettila qua nel box ok perfetto vediamo se Daniel può fare qualcosa oppure no perché non mi ricordo se c'era qualche interazione no solo sveglia e vabbè dai Daniel vieni qua e guarda la tua sorellina oh tra l'altro sta anche iniziando a nevicare e a questo punto tieni della sua giornata a Catrina come è andata come sta adesso che è nata la sorellina insomma un po' di cose così e poi Daniel te ne vai qua a dormire perché hai sonno tanto lui si è messa a dormire tranquillamente perfetto Sebastian direi che ma no che succede qua ripara per favore e poi te ne puoi andare a dormire uh Ares è venuto a salutarci buonanotte Ares vediamo un po' lui come sta vabbè sta abbastanza bene giusto un po' di di sonno vedete come ormai lo segue segue Daniel quindi stanno veramente instaurando un bel rapporto di amicizia meno male sono molto contenta per questa cosa Sebastian è finito qua di reparare che c'è un caos assurdo Catrina per favore asciuga qua diamo un attimo una sistematina alla casa e poi ce ne andiamo a dormire guardate lei com'è contenta che è una bemminuccia e Sebastian invece voleva un maschietto se vi ricordate aveva il desiderio di avere un maschietto però adesso è contentissimo anche lui che sia una femminuccia una nuova deliziosa femminuccia è una fantastica aggiunta per qualsiasi famiglia eh sì assolutamente sì bene così adesso Daniel avrà finalmente una sorellina per giocare adesso appena diventa un po' più grandina poi Catrina per favore riempimi anche qui la ciotolina del cibo perché cominciano ad avere un po' di fame degli nostri animali Sebastia l'hai fatto ci stai mettendo una vita su su dai dai è tutto inutile è stato inutile che Catrina ha asciugato la pozza perché qua Sebastia niente ancora non ha finito e continua a far perdere acqua da tutte le vatti e vabbè senti Catrina mangi domani mattina perché adesso sei più stanca quindi dormi per favore dai Sebastian ce l'hai quasi fatta oh bravissimo bravo ti sei meritato di andare a dormire ok perfetto quindi sono tutti a dormire anche Chloe sta benissimo perfetto ragazzi allora direi che con la nascita di Chloe ci fermiamo qui con questo episodio forse è venuto un episodio un po' più breve rispetto agli altri però c'è un motivo perché vi voglio fare un piccolo annuncio cioè voglio un po' mettervi al corrente dei progetti che ho in mente per questa serie di The Sims 3 allora praticamente con l'episodio di oggi ho deciso di far terminare la prima stagione di The Sims 3 quindi significa che dal prossimo episodio inizierà la stagione 2 quindi praticamente con la nascita della nostra Chloe inizierà la seconda serie di The Sims 3 e ci saranno dei cambiamenti importanti non vi voglio dire molto vi faccio giusto qualche spoiler così lieve in pratica che cosa ho in mente di fare ho deciso di far trasferire questa famiglia ma non in un'altra casa qui ad Appalusa Plains ma farla proprio trasferire in un'altra città ora però qual è il problema che contrariamente a come avviene in The Sims 4 che i sim possono cambiare casa e spostarsi da una città all'altra senza problemi in uno stesso salvataggio questo in The Sims 3 non è possibile il che significa che se cambio città devo cambiare anche salvataggio quindi che cosa farò io praticamente salvo la famiglia loro di Caterina Sebastian eccetera così com'è nel catalogo delle famiglie dopodiché chiuderò cancellerò questo salvataggio e ne aprirò uno nuovo con questa nuova città e io ritrasferirò loro dal catalogo delle famiglie in questa nuova città quindi praticamente succede che loro li ritroviamo così come stanno adesso quindi con Caterina Sebastian Daniel Chloe e tutti gli animali così come stanno l'unica cosa è che perderanno le relazioni con gli altri Sim le relazioni di amicizia che hanno solo che è una cosa che non mi preoccupa alla fine più di tanto perché alla fine Caterina e Sebastian non è che hanno fatto grandi amicizie qui nel quartiere in questa città in realtà questo è anche uno dei motivi per cui vedo bene un trasferimento cioè io nella mia storia immagino che loro non si trovino molto bene in questa città in Appalusa Blains e vogliono decidere di ricominciare il tutto da un'altra parte quindi iniziando una nuova vita in un nuovo posto facendosi dei nuovi amici magari stabilendo questa volta delle amicizie più solide e per il resto credo che resta tutto anche le loro abilità sono mantenute non so se i lavori mi restano però quello anche non è un problema perché in caso li riprendiamo gli stessi lavori che facevano dovremmo forse riniziare da zero dal primo gradino del lavoro però penso che in poco tempo ritorniamo a stare dove siamo adesso quindi quello non mi preoccupa ecco per quanto riguarda la nuova città non vi anticipo quale sarà la città nuova in cui andremo a vivere vi dico soltanto che probabilmente non la conoscete perché non è una città ufficiale del gioco che si trova in qualche espansione ma è una città che ho scaricato dalla community di The Sims 3 e con cui io ho giocato per tanto tempo quando giocavo insomma anni fa a The Sims 3 vi anticipo solo che è una città enorme ed è bellissima cioè io veramente l'adoro perché è una città molto variegata che ha tante zone diverse questa invece ad esempio Appalusa Plains è una cittadina sì carina però è un po' troppo in stile campagnolo un po' troppo monotona per i miei gusti mentre questa nuova città in cui andremo a vivere è veramente variegata diversa bellissima non vi dico il nome ve lo svelerò appunto dal prossimo episodio quindi ragazzi diciamo che da questo momento in poi ci sarà una svolta in questa serie di The Sims 3 con l'episodio di oggi quindi chiudo la prima stagione e dal prossimo episodio inizieremo quindi una nuova stagione la serie 2 di The Sims 3 l'unica cosa è che ci metterò un po' di tempo per preparare tutto quindi vi anticipo già da adesso che il prossimo episodio non uscirà la prossima settimana la prossima domenica perché non farà in tempo a preparare tutto quindi ci sarà una breve pausa di un paio di settimane tre al massimo ma penso già tra un paio di settimane comincerà questa nuova stagione quindi ci fermiamo qui con l'episodio di oggi spero che il video vi sia piaciuto fatemi sapere se siete contenti che sia nata una femminuccia se vi piace il nome che ho scelto e che anzi alcuni mi hanno appunto suggerito e soprattutto se vi piace l'idea di questo trasferimento e di iniziare questa seconda stagione noi ci rivediamo presto con nuovi video ciao ciao